Il Parlamento greco riunito in seduta notturna ha dato il via libera alle nuove misure d'austerity che dovrebbero consentire il salvataggio del Paese. Queste prevedono l'ennesimo taglio delle pensioni e l'abbassamento della soglia di reddito esentasse. Poco prima di queste decisioni, ad Atene, in molti sono scesi in piazza contro le nuove misure per quello che è il terzo giorno di proteste e di sciopero generale. Un gruppo di manifestanti ha tentato anche di entrare nel giardino del Parlamento e sono nati degli scontri pesanti con la polizia, con lanci rispettivamente di molotov e lacrimogeni, tre almeno le persone arrestate. Le misure che dovrebbero entro due anni mettere in sicurezza la Grecia, secondo i calcoli, porteranno al recupero di 4,5 miliardi tra risparmi e nuove entrate e verranno vagliate nella riunione di lunedì prossimo dall'Eurogruppo riunito a Bruxelles. Quando un avvocato guadagna 100.000 euro il suo reddito netto dopo contributi pensionistici è di soli 20.000 euro, quindi da questi lui deve di nuovo investire nel suo lavoro per otterrere 100.000 ed ora in Grecia non esiste un avvocato che guadagni 100.000 euro l'anno. Si può capire quindi quale sia la realtà per le persone più povere. Il mio reddito ha subito una riduzione dell'80%, non posso pagare nulla, i miei debiti sono in aumento, non abbiamo più reddito ed aumentano le tasse. Non so cosa succederà d'ora in poi, io non credo più a nessuno, né a Siriza e neppure al partito di opposizione Nuova Democrazia. Il governo greco pensa che queste misure porteranno alla fine della crisi economica e che il paese tornerà alla crescita. Tuttavia i manifestanti vedono questi nuovi tagli come un'estensione a lungo termine dell'austerità greca.